ciao ragazzi bentornate sul canale allora oggi faccio un video che sul mio canale io non ho mai fatto che mi è stato spesso richiesto e diciamo ultimamente poi non lo so è uno dei più gettonati ed è il what's in my iphone prima di iniziare sì ho cambiato colore di capelli quindi se vedete i capelli più scuri sono più scuri li ho anche un po scalati perché ero stufa comunque del taglio pari ormai li erano diventati troppo lunghi e si erano appesantiti un sacco e quindi ho dato anche una zac zac tagliata quindi vi faccio questa piccola premessa perché tanto sono sicura che me lo chiedete giù nei commenti è un castano non è un colore con ammoniaca è un riflessante ho mantenuto comunque le punte più chiare però ho tolto diciamo il giallo non l'ho tolto io l'ho tolto il parrucchiere il giallo che ormai dello chatouche balayage che avevo fatto un anno fa che ormai si era schierito troppo allora io ho un iphone ho un iphone 6s plus da non mi ricordo quanti giga sono credo che sia quello con più giga perché appunto ho scelto questo modello per avere più giga possibili e ho scelto il plus perché è più grande io ho sempre avuto l'iphone ho l'iphone da quando praticamente è uscito il 4 ho avuto il 4, ho avuto il 5, ho avuto il 6 è normale e io adesso ho il 6 plus quindi sono della fazione iphone e non android ma semplicemente per una questione anche di abitudine ormai non mi potrei più abituare ad un altro telefono e quindi continuo ad avere iphone questo è il rose gold è quello rosa niente che vi devo dire adesso vi farò vedere più da vicino tutte le app che uso tutto quello che ho nel telefono soprattutto le app che uso di più che uso di più in generale e per modificare le foto quando carico le foto su instagram allora come vi ho detto questo è il mio iphone dopo lo guardiamo vi rispondo subito a una domanda che sicuramente mi farete ovvero la cover che uso non è niente di scicchettuoso è una cover in plastica trasparente la cosa che mi piaceva adesso vi parlo anche di questo la cosa che mi piaceva era avere lo schermo coperto comunque riparato anche davanti quindi non solo non è la classica cover che copre dietro ma anche il suo vestitino anteriore il cuoricino ad anello che io uso in realtà non per telefonare così ma come appoggio vedete così lo vedete non lo trovate nei negozi perché anche io non l'ho cercato tantissimo ma non l'ho mai trovato mi è stato regalato quindi via parliamo del telefono allora vediamo subito la cover l'immagine questa è la mia immagine di sfondo e queste sono scaricabili da un blog di una ragazza che vi linko sotto e ogni mese praticamente c'è questo questo sfondo carinissimo che poi voi potete cambiare e tenere per tutto il mese allora andiamo a vedere queste sono le mie app io ho una schermata dove tengo tutto e qui tengo solo le cose proprio che non mi interessano molto quindi cerco di raggruppare tutto diviso per cartelle e in modo da avere appena apro il telefono la visione completa di tutto qui partiamo dal basso dai allora io ho inserito vediamo ho inserito quello che mi serve di più quindi contatti telefono messaggi e ovviamente whatsapp partiamo dall'alto allora calendario orologio app store agenda iniziamo dalla cartella agenda io qui tengo vabbè promemoria e note e salute che sono delle cose che non potete cancellare altrimenti salute l'avrei già cancellato questa che è un'applicazione che si chiama period tracker light ed è utilissima per tutte le donne perché praticamente vi tiene sotto controllo il livello ormonale quindi tutte le fasi ciclo preciclo eccetera eccetera ovulazioni eccetera potete scrivere quello che vi pare non lo apriamo perché non vi interessa il mio bioritmo mensile e poi c'è sto card che è un'applicazione utilissima dove voi potete scannerizzare il codice delle vostre card ed inserirle poi tutte qui in modo da avere tutte le card che vi servono a portata di telefono senza dovervele portare in giro e per l'agenda abbiamo finito io uso tantissimo le note non uso mai promemoria poi ho questa parte qui shazam musica dove c'è itunes store e musica pc e qui ho adobe acrobat traduttore io di queste cose utilizzo pages per scrivere delle cose che poi magari mi trasferisco direttamente sul computer e il traduttore utility l'ho chiamata così perché abbiamo tutto quello che ti può servire quindi calcolatrice la bustola vabbè non serve l'andamento della borsa non mi serve nemmeno l'unica cosa che utilizzo è il convertitore di valuta e basta forse il meteo ogni tanto vabbè la calcolatrice sì le memo vocali nemmeno video nella cartella video ho youtube ovviamente studio che è l'applicazione praticamente per gestire il vostro canale youtube quindi potete rispondere direttamente ai commenti da qui ve la faccio vedere dai voi l'aprite qui ho tutta la panoramica dei miei video tutti i miei commenti eccetera quindi posso andare direttamente sul commento e rispondere video imovie che uso tantissimo imovie non lo trovate in tutti gli iphone lo potete scaricare però nel plus è in dotazione quindi nel software è previsto aimovie e devo dire che lo sto utilizzando a volte magari se ho dei video brevi me li inserisco nel computer e quando sono in giro posso caricare se ho da aspettare insomma se ho qualcosa da fare da attendere nelle attese ci gioco un po' poi video lab che è un'applicazione per modificare i video però non l'ho praticamente mai usata e questa qui squared video che la sarebbe squaredi per instagram quindi per le foto versione video quindi potete ritagliare e mettere le cornicette a tutti i video vabbè foto fotocamera periscope vi lascio il mio periscope qui safari e poi social network social network è la cartella che uso di più in ordine proprio di utilizzo la mattina mi sveglio apro questa cartella guardo facebook messenger pagina per gestire la mia pagina facebook che vi scrivo sempre qui twitter ve lo scrivo instagram seguaci plus in realtà non l'apro quasi mai come non apro mai repost l'unica che guardo un pochino di più è blog loving perché voi l'aprite praticamente tutti i blog tutti i blog che seguite ce li avete a portata di tutti i nuovi post ecco vi vengono aggiornati così e io questa me la leggo tipo giornale poi shopping la cartella shopping credo interesserà a molte allora zara h&m e io qui vado praticamente a guardarmi la sera prima di addormentarmi mi guardo le nuove collezioni che cose è uscito e poi vado in negozio con le idee molto chiare etsy che è quel negozietto online dove ci sono tutti i rivenditori sono molti rivenditori che fanno le cose a mano quindi artigianali e io ci compro molte cose di cartoleria dal Giappone e dalla Cina quindi hanno washi tape tutte queste cose qui the pop che ormai se non hai the pop praticamente non compri più io la uso tantissimo asos stradivarius e mango sempre come zara h&m giusto per vedere che cosa è uscito nella collezione se è uscito qualcosa di nuovo che vado a vedere poi la cartella banca e io ho la mia banca è hype che è una carta di credito che potete fare tranquillamente gratuita con la quale fare shopping online o comunque pagamenti eccetera le email quindi gmail che è l'email che uso per il canale e la mia mail personale quella dei tempi di messenger le mappe e io questa la uso tantissimo perché è il mio navigatore qui a Roma e mi è stato utilissimo soprattutto all'inizio ogni volta che salivo in macchina lo azionavo e viaggi questa è la mia cartella di divertimento allora c'è around me che è un'applicazione che vi mostra quello che c'è nei dintorni tipo che ne so cercate un ristorante giapponese aprite e vi mostrano adesso non ve le apro tutte perché vi faccio vedere solo quelle che utilizzo di più vola gratis booking treno italia italo treno uber che è comodissima soprattutto se non volete prendere il taxi movit che è un'applicazione che credo che c'è solo a Roma perché vi segnala tutti i problemi della metro degli autobus eccetera venere airbnb che ho usato molto e che trovo un sito fantastico nella cartella offerte io ho messo amazon e subito che ogni tanto vado a vedere così giusto per per non sapere cosa fare food e cinema perché c'è cinema con coming soon che questa è un'app che mi piace tantissimo allora voi avete tutte le uscite è uscito l'uppe in terzo questo voglio andarlo assolutamente a vedere e vi dice anche in zona quindi in zona voi selezionate il film che vi interessa tipo che ne so dov'è l'uppe l'uppe non c'è vabbè facciamo finta che vogliamo vedere questo 50 sbavature di nero poi voi andate giù vi dice intanto tutta la trama potete guardare il trailer e vi dice in zona che in zona vostra insomma nel raggio d'azione di di qualche chilometro gli orari e dove lo fanno e io lo uso tantissimo come uso tantissimo Just Eat Just Eat perché aprite questa applicazione e adesso io ho coperto l'indirizzo di casa ovviamente se faccio trovami un ristorante mi dice a seconda di quello che voglio mangiare tipo posso selezionare tutte le cucine oggi voglio mangiare giapponese e lui mi dice quale sushi me lo posso quale sushi a domicilio c'è voi fate la vostra prenotazione e pagate in contanti quando arriva quindi è comodissimo poi c'è Netflix e questa me la chiedete spessissimo ed è l'applicazione praticamente del sito quindi voi vi fate l'abbonamento a Netflix il primo mese è gratuito poi potete decidere se continuare a guardare serie tv qui o no e niente scegliete tutte le serie tv che ci sono e adesso come vedete sono ancora qui con Orange is the new black che ho abbandonato Gotham che ho visto tutto e vi mette tutte anche le novità quindi voi potete selezionare per esempio voi potete scegliere per serie tv però io volevo farvi vedere che potete ah ecco potete andare sulla mia lista quindi queste sono tutte le serie che secondo i vostri consigli ho inserito queste qui poi ci sono impostazioni e vabbè astri vi ho lasciato per ultimo una cartella che adesso vi faccio vedere meglio ovvero foto per Instagram queste sono tutte le applicazioni che uso io allora vado dalle più semplici Squaredi è quell'applicazione praticamente che vi permette di rimpicciolire una foto adesso l'apriamo io vado a ok questa che avevo fatto prima giusto per farvi vedere cosa faccio premo qui vabbè questa è già quadrata quindi io adesso ho premuto questo e l'ho rimpicciolita in questo modo voi potete poi direttamente caricarla rimpicciolirla fare i bordini e tutte queste cose qui poi layout no aspetta layout che praticamente io uso per fare i collage soprattutto quelle quando vi mostro tutti gli outfit del mese in uno poi allora come me è un'applicazione praticamente per i selfie quindi voi appoggiate il telefono muovete la mano e parte il selfie poi quelle che uso di più sono dark room e enlighten quella che uso per le foto di instagram è dark room ok io adesso vi seleziono questa vi faccio vedere come la uso allora se andate su questo tasto qui avete tutti i filtri e io scelgo sempre questo che si chiama A200 dopodiché vado a selezionare la a modificare quindi di solito aumento un pochino la luminosità diminuisco il contrasto aumento la saturazione la potete diminuire ecco vedete è molto carina e molto immediata la temperatura la dissolvenza l'effetto vignetta che è carinissimo la nitidezza dopodiché andate lo premete in giù fate condividi salva coppia poi cosa faccio una volta che l'ho salvata io vado su questa applicazione qui che si chiama aviari comunque ve le scrivo sotto queste qui di instagram premo sulla foto che ho modificato vado su cornici seleziono la cornice che uso sempre ok applica salva fine e mi ha salvato la foto quando invece faccio le foto di cibo quando metto le scritte delle foto di cibo uso studio più che è questa applicazione qui allora voi fate no sbagliato più andate oddio dai possiamo anche fare una foto insieme vediamo facciamo una foto al tappeto scattiamo la foto dopodiché andate su remix che è quel tastino lì che ho premuto e potete selezionare le le frasi raccolte diciamo in cartelle noi facciamo 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 quote vediamo un po' e praticamente ci sono delle foto preimpostate che altri utenti prima di voi hanno modificato tipo che ne so vedete io ve le premo un po' a caso così per farvi vedere e voi praticamente scegliete quella che vi piace di più vedete dopodiché fate apply finish done e avete la vostra foto salvata nel vostro rullino quando invece faccio le foto le miniature comunque quando voglio scrivere qualcosa io e voglio usare il carattere soprattutto quando faccio le foto che metto poi come anteprima per i video qui su youtube allora non vi ho detto si chiama ronna design l'applicazione scelgo la foto ok mi va bene il formato così altrimenti potreste anche modificarlo però a me questo formato qui va più che bene e poi la td text io seleziono sempre il classico fate due volte scrive ciao ok e poi potete scegliere il font ce ne sono tantissimi davvero tanti a me piace molto questo e potete scegliere il colore quindi così no adesso vi faccio un esempio dopodiché schiacciate done e salvate andate qui e salvate la vostra foto questa è carinissima non solo per le foto appunto di instagram per scrivere le cose ma proprio perché è molto facile anche dei filtri carini che adesso non vi ho fatto vedere e basta vabbè poi c'è Paolo Fox che come al solito ogni tanto mi vado a leggere e niente questo era tutto quello che c'è nel mio telefono avete visto niente di che però insomma quello che mi serve tutti i giorni evito di occupare spazio con applicazioni che tanto so che non andrò mai ad utilizzare mai ad aprire perché a volte non ho neanche il tempo di aprire quelle che mi piacciono di più tutti i giorni quindi niente spero che vi possa essere stato utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao